Oggi vi porto in Messico, burritos con il granchio blu. Come farli? Adesso vi ho fatto vedermi. Dopo aver pulito il granchio blu come nel primo video, prepariamo l'impasto per le tortillas. In una bull mettiamo acqua tiepida, olio di semi di arachidi oppure olio d'oliva, sale fino e mescoliamo per bene. In un'altra bull mettiamo la farina e aggiungiamo un po' alla volta il mix di liquidi, mescolando con la mano. Deve diventare un impasto liscio e omogeneo. Pronto lo coprite con pellicola e lo lasciate riposare mezz'ora. Passato il tempo lo dividete in cinque parti. Le tirate una per volta con un mattarello, dandogli una forma rotonda. Le cuocete in una piasta inghiesa giusto un minuto e mezzo per lato. A questo punto possiamo preparare i burritos. Mettiamo dell'insalatina tritata, pomodoro, cipolla rossa julienne, la polpa di granchio blu, grattugiata di lime, qualche goccia del suo succo e giusto un po' di maionese. Arrotolate pressando verso l'interno e sì o no, mamma mia che spettacolo facile, godurioso e... Massaboni!